Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, oggi voglio fare un unboxing con voi in quanto mi è arrivato questo pacco qui Ho già cos'è perché so cosa ho ordinato, è una cosa che ho ordinato io Ho anche già aperto in modo da facilitarmi con le forbici perché sono un po' sfigata Allora, andiamo ad aprire, wow, no è bellissima Allora vi spiego, ho deciso di provare a prendere queste box Siti internet, questa in particolare è di Beautiful Box, vi lascio il link nell'info box Ho pagato 14 euro, è arrivata questa bellissima box qui, molto molto carina Come possiamo vedere, secondo me è fatta veramente bene, veramente tanto Andiamo ad aprirla Allora per ora è veramente molto bella, in quanto ne ho ordinato due Una è questa da Beautiful Box e l'altra è da Makeup Box, non mi ricordo il nome Però volevo provarne una e scegliere quale delle due mi piaceva di più Allora, innanzitutto dentro questa scatolina c'è un foglietto illustrativo Tutorial come realizzare una French manicure, al contrario, step by step Quindi avete anche un tutorial, se era quella del mese di marzo Qui abbiamo questa sacchettina con scritto Join the Dance da questa parte La sacchettina c'è, sta carina veramente, la terrò e la userò Non so per cosa, però la userò Andando ad aprire, pesco, non guardo Allora, allora, ho questo ventaglio Lo metterò in borsa Perfetto Ok, questa cosa è molto utile, cioè questa cosa, questo ventaglio è molto utile Quindi uno, abbiamo un rossetto Rouge à la folie, non so il francese, excuse moi I don't know, questo che colore è, non lo so Ok, è rosso È assolutamente rosso, 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 rosso Oddio, sa, di ciliegia troppo Infatti questo era un tema tutto sul rosso, tutto sulla ciliegia Wow, non mi piace Ma se riesco a farvi uno swatch La mia è la fine del mondo Anche molto pigmentato, eh Un test and tell, sappiatemelo dire, vi lascio la scheda informativa Oddio, questo io lo volevo provare da troppo, voi non potete capire Questo è il Batiste Dry Shampoo Che è soprattutto una marca americana Cioè, è una marca americana e la usano ovviamente le americane Si trova anche su Amazon, ho visto Ma non l'ho mai provato perché, sai, se non mi piace Questo è With a Coconut and Exotic Fragrance Oh mio Dio, voglio sentire Oh, voi non potete capire come cavolo si sente il cocco in questo cosino qua Queste sono... Quante ml di prodotto, quindi, beh, ce n'è anche Questo è lo sciampino Io vi farò sapere assolutamente perché io amo gli spray secchi, gli shampoo secchi E volevo soprattutto provare questa marca qui Quindi vi farò veramente sapere e spero di rimanere ben soddisfatta Sempre in rosso abbiamo questo smaltino della marca Rouge Only La loro personale marca Questo è semplicemente uno smaltino rosso Mi piace tanto, anche se ovviamente di smalti ne ho tipo 350 Però proverò anche questo sicuramente Ho l'ultima cosina, mi sa Questa è una crema di Mercy Handy Yes Questa è alla ciliegia Fantastico Sherry Sherry Andiamo a sentire assolutamente Poi c'è scritto Tiny bit that will soften your hands and melt your heart Handily made in front Sentire assolutamente Allora è chiuso Non si sente l'odore da fuori C'è un pelo ma pochissimo Andiamo ad aprire Pelo Oddio ma oddio ma ci sono No vi prego Allora Cioè vi prego Guardiamo tutti Guardate Ci sono dei pallini all'interno Guardate Li vedete piccolini? Questo è quello Vuoi mettersi la crema Così Perché il sotto non va idratato delle mani Quindi una pallina di crema Sopra il dorso della mano E poi con l'altro dorso sopra Si spalma Dio mio sentite che odore ragazzi Cioè sentite che odore No vi giuro Vi prego Andate a provare queste creme in negozio Queste ci sono anche da Sephora Questa è quella alla ciliegia Ma è buonissima È dolce ma non esagerato I'm in love Totally in love Non chiedetemi perché comincio a parlare in inglese Sarà la mia prof inglese Che ce l'ho dentro Vabbè Amo Ok Questo era tutto l'interno della mia Beautiful box Vi lascio il link dell'info box qui sotto Per andare a vedere un po' il loro sito E come funziona Io vi mando tanti tanti baci Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto Con un pollice in su E iscrivetevi qui sotto al canale E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao